nuvola ma te sbrighi che ho il suo biglietto del parcheggio non trovo i chiavi e quindi eccoci qui c'è anche qua c'è la matrice come avete capito il tempo non è un granché stiamo andando in pratica a vedere è una dimostrazione pratica di cheesecake da lei inventati da lei chi non lo sanno chi è ovviamente stiamo in ritardissimo praticamente adesso ci spiegherà come realizzare due cheesecake e se lo capisco io ne possono fare chiunque ah sì avete visto bene sono l'unico uomo tutto molto interessante ma adesso assaggiamo grazie no 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 ma io faccio le riprese con il telefono queste e tante altre cheesecake stanno qui nel libro ovviamente io la procedura non ve l'ho fatta vedere tutta così per comprare il libro grazie tiziana e niente ciao a tutti ciao a tutti se il video vi è piaciuto mettete vi piace iscrivetevi al canale commentate e andate a cercare tutti i social ciao 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 a tutti ciao a tutti Grazie.